in frattempo che mi metto le cuffie queste adorate cuffie che alle volte cadono per fatti loro vi saluto salve a tutti ragazzi siamo in un altro video di fortnite stiamo continuando con le sfide fai centro in centro siamo qui con la penultima sfida dove avremo come ricompensa come backboard lo stile discoteca che è davvero bellissimo è molto colorato la sfida consiste nel danzare o usare un emote sul campo da palla canestro niente di più semplice è davvero semplicissimo adesso entriamo in partita sarà una cosa davvero semplicissima anche trovare il campo da palla canestro e a inizio partita la prima discesa basta che e due abbiamo trovato giorgi giorgi ma si ma arriva a hit e giorgi la vuoi la parchetta e dove abbiamo trovato giorgi jonsi la seconda volta no la prima vabbè è dove abbiamo trovato jonsi una delle se non sbaglio la terza volta fatto stacchi adesso ragazzi oh mio dio vabbè vi faccio vedere se riesco in questa tre in questi 30 secondi basta andare vabbè mi conviene andare da questa parte da quella lì scendere da qua e qui c'è il campo da palla canestro ah e si qua stava jonsi inoltre quella porta non porta a niente basta danzare o usare un emote come ad esempio no cavolo vabbè come ad esempio che ne so tante coccole che sembra manco fossero i teletubbies tante coccole comunque come vi ho detto forse vi conviene andare da qui proprio per non rischiare di cadere da quella parte beh però se mi bloccano beh si è buggata la partita no è inutile da un po di giorni questa modalità sta avendo un po di problemi guardate questi sono tutti bloccati ok entriamo piano 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 ok sfida fatta me ne sto andando così ok ma prossima sfida almeno per me riuscirò ad arrivare per primo questa è tutta da vedere la faranno i nostri eroi ma speriamo per me sarebbe una cosa bellissima quasi quasi io come in prime parti andrei direttamente nei sotterrani così da riuscire a prendere già un bel po di cose ok un mezzo di stacco ce l'ho dagli altri ok andiamo giù beh però vattene a cacare figlio mio eh cioè non avevi altro posto dove andare tu ok ok qual è la prossima parte sotterranea oh voilà vabbè sarebbe la metropolitana la prossima o meno il sotterraneo vabbè io quasi quasi vado da qua è vero sta pure quella cioè questa qui ok no ho preso un distacco da maestro ormai non dico che non mi può battere nessuno in questa modalità però eh però a parte questa parte mi fa venire abbastanza nervoso ok andiamo da qui e prendiamo ma no inutile non riesco più a prendere quella parte lì voilà no mi sto sbagliando un pochettino perché non riesco più a trovare quella zona eh sì perché si trova dopo questa parte cioè dopo questa a questa discisa qui eh già quella lì è che scemo ok rallentiamo in modo da poter prendere tutte le monete no inutile è un dato cioè che sorta di distacco dato non scendere ok andiamo da questa parte che è l'unico l'unica scorciatoia per dire che ho mancato vai 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 oh inutile non riuscirò mai a fare questa roba voilà che precisione beh beh wow ok ho vinto un'altra partita è inutile 112 ma arrivano pure i carabinieri me lo ricordavo anche a memoria dove si trovasse in campo da palacanestro è davvero una stupidata la prima discesa appena parte la partita la gara e la si trova a sinistra entrate lì ci sarà jonesy pure a farvi compagnia e voi dovete fare o un ballo un qualsiasi ballo oppure dovete fare un'emote vabbè io a questo punto potrei fare un'altra partita ma vabbè già che ho vinto questa qui già mi basta per oggi dunque io spero che questo video vi sia piaciuto vi sia stato soprattutto d'aiuto se così è stato mettete un bel mi piace commentate e iscrivetevi se non l'ho ancora fatto buonanotte ragazzi o quello che è vediamo un po' il nostro caro stile et voilà schile eh schile si stile sbloccato discoteca e come vi ho detto questo è il penultimo stile dopodichè aspettate non è il penultimo perchè c'è anche questo ah si perchè in pratica questo è quello proprio definitivo completa tutte le 13 sfide per ottenere l'oggetto ricompensa questa è la ricompensa finale avremo come ricompensa sia questo qui che quello proprio di tutte le sfide alla grande mi ero scordato di questo particolare qui comunque buonanotte o quello che è ciao 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 ciao